23 marzo 1944, alle ore 15 circa, scoppia una bomba in via Rasella a Roma. La potenza del fuoco investe una compagnia del primo battaglione del reggimento di polizia tedesca Bozen, che transita a piedi. Dei 156 uomini tra ufficiali, sottofficiali e truppa, 32 militari rimangono uccisi e 110 feriti. L'attentato darà origine alla rappresaglia tedesca, l'eccidio delle fosse Ardeatine, in cui verranno fucilati 335 prigionieri. Grazie per la visione!